Musica Ben trovati a Sport News. La regular season 2024-25 di volley si aprirà all'Eurosuole Forum con l'anticipo di sabato 28 settembre tra Cucine Lube Civitanova e Sone Parre Padova. In programma alle ore 20.30 il match valevole appunto per la prima giornata. A proposito dei giovani, il calcio del futuro è il titolo di un incontro promosso da BSP Football Agency con il Comune di Tolentino, assessorato allo sport e con il patrocinio dell'Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, che si terrà lunedì prossimo 30 settembre alle ore 17.30 al Teatro Nicola Vaccai, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala. E con quest'ultima notizia è davvero tutto per questa edizione del TG, grazie per l'ascolto e a tutti voi una buona serata. Musica Musica Musica